Adendo Gesù, erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desideravo aderlo. Per averne sentito, sentito parla a me, sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lui interrogò molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano anche i sommi sacerdoti, eppure gli scrivi e lo accusavano con insistenza. Allora erode, non gli suoi soldati, non gli insultò. Allora erode, non gli suoi soldati, non gli suoi soldati. Allora erode, non gli suoi soldati, non gli suoi soldati. Prima, infatti, c'era stata in indicizia tra di loro.